Giuseppe De Gennaro, eccolo qui, grazie Giuseppe. Luigi Del Giudice, grazie Luigi, attento a volte grazie. Margherita Della Porta, bene Margherita, come somiglia a tua nonna, tu lo sai, tantissimo. Alessia Mazzaro, viene Alessia. Anna Mazzaro, Anna grazie. Alessia Pailo, poi ritorno a Roma anche, Paolo Romano, grazie Paolo. Marina San Giovanni, vieni Marina, grazie. Raffaele Silvestro, grazie Raffaele. Michele Simone, Michela, scusami a quest'ora, perdonami, anche perché sei lontana da Michele, dico la verità, grazie. Antonio Spina, questa sarebbe la città dell'altra sera, un giro è fermo almeno. Allora, Maurizio Varicchio, Maurizio grazie anche a te. Rita Verdicchio, grazie. Questo è il nostro attestato di partecipazione, vi resta comunque un nostro ricordo, chiaramente. Prima di venire a quello che è il finale avremmo voluto premiare tutti, anche con tutto quello che succederà adesso, però purtroppo questa è una competizione dove c'è stata una serie giuria che ha giudicato comunque le vostre esibizioni sotto l'aspetto tecnico e anche sotto la presenza scenica sul palco, perché contava anche questo, si votava su tre parametri. Allora, chiamiamo intanto il nostro... Ecco qua, sono con noi, la nostra giuria, prego, prego la giuria di accomodarsi sul palco. Ecco qua, i nostri giurati, adesso, guardateli per un attimo tutti. Ecco qua, sono stati loro a giudicare questa serata. Ok, allora facciamo prima il premio giuria. Naturalmente sono microfonato. Chi darà questo premio giuria? E ovviamente il nostro presidente di giuria, prego io... Aspetta che c'è uno in tasca, vuole un presigirlo tra la serata che ce l'ho qua. Ebbè certo, è certo. Allora, bene. Vediamo per un attimo il premio giuria con tutta la motivazione della giuria. Si aggiudica il premio giuria, targa premio di Telese Terme, partner check hearing, apparecchi acustici. Per noi, insomma, la motivazione di noi cinque è che le emozioni che ci ha trasmesso questo concorrente, la giusta intonazione e il calore, il vero calore della voce, gli conferisce questo premio. e parliamo del concorrente numero 9, Giuseppe De Gennaro. Giuseppe De Gennaro! Allora, sì, qualche foto? Possiamo? Allora, venga con me Giuseppe, piano piano al centro. Mi trovi un quotidiano che ci sta pieno, è la signora. Allora, venga qui al centro. Allora, questa è la sua targa, ricordo. Naturalmente, con la giuria, visto che è il vostro premio. Adesso facciamo una foto. Forse appena da sotto, eh. Ce la fai? Ok, dai, dai, allora, farla di lato. Sistematevi un attimo. Allora, giratevi giustamente, girate e apritevi un attimo verso Fiorella. Le foto le facciamo tutte da qua. Allora, grazie mille, complimenti, grazie per aver scelto questo festival. Grazie, grazie. Può tornare al suo posto, grazie signora per averla accompagnata in queste serate.